In una location del tutto particolare, quella della Fontana dei Delfini nella Reggia di Caserta, si è svolta la quarta edizione della Reggia Challenge Cup 2018, la gara di canottaggio che vede sfidarsi gli equipaggi inglesi di Oxford e Cambridge. Alla fine ha vinto Oxford, lotto delle frecce nere per 2-0, portando a casa così la rivincita dello scorso anno. Non c'è stato bisogno di arrivare a gara 3, ma i 3.000 spettatori lungo il bordo della Fontana monumentale non sono di certo rimasti delusi dallo spettacolo offerto dalle imbarcazioni. Era quello che volevamo, ha detto il deus ex machina della Reggia Challenge Cup Davide Tizzano. Non solo Inghilterra dunque, ma anche altre gare. Nel confronto pugliese tra le due imbarcazioni del Cus Bari vince la compagine timonata da Luca Leggero, su quella guidata da Vito Castro. Bari è ancora sui scudi, anche nella specialità 8 maschile regionale. Domina Alessandro Amadeo, nella categoria singolo maschile regionale, aggiudicandosi il trofeo città di Caserta e precedendo Luca Moncada e Tiziano Comes. È toccato al presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abagnale, complimentarsi con l'equipaggio Kinder più Sport, composto dagli atleti del Savoia, abili a tagliare il traguardo prima dei cugini della Canottieri Napoli, premiati da Michele De Simone, presidente del CONI Caserta.